Dopo una maratona memorabile durata oltre 24 ore, con 18 voti a favore e 5 contrari e 3 assenuti, il Consiglio regionale ha approvato la legge che salva Abruzzo Engineering, società di liquidazione controllata dalla regione che impiega circa 180 persone, di cui un centinaio occupati nella ricostruzione e la restante parte in cassa integrazione. Salvataggio reso possibile da una variazione in bilancio da 6 milioni di euro, con cui sarà acquistato il 30% del capitale attualmente detenuto da Selex, che rinuncerà in tal modo ad un contenzioso con la regione da oltre 30 milioni di euro. Per mancate commesse. In questo modo però Abruzzo Engineering diventa una società in house, con la partecipazione della regione al 90%. A seguire sarà attivato un piano industriale per occupare tutti i lavoratori attraverso commesse dirette in materia di genio civile e ricostruzione post-sismica. Esulta la maggioranza che si è ricompattata in nottata dopo vari screzzi, nati dal dover reperire i fondi e affrontato il fuoco di fila degli emendamenti ostruzionistici delle opposizioni, cominciati intorno alle 5 del mattino e conclusi intorno alle 11 della mattina. Chi la dura la vince, esclama un Pierpaolo Pietrucci del PD, euforico seppure assonnato. Dunque intanto ci tengo a precisare che salvare Abruzzo Engineering significa far risparmiare alla regione Abruzzo un debito di 40 milioni di euro, garantire una continuità dei servizi e delle prestazioni dei lavoratori per la ricostruzione dell'Aquila e dei comuni del cratere e soprattutto rilanciare un piano industriale che prevede maggiori livelli di efficacia e di efficienza per il genio civile. Le opposizioni rimarcano al contrario che da oggi ci saranno figli e figliastri, visto che, a tonato Gianni Chiodi di Forza Italia, si usano le risorse degli abruzzesi non per abbassare le tasse ma per finanziare carrozzoni, mentre sono lasciati al loro destino i lavoratori di altre società partecipate come Ciapi, Cotir, Negri Sud. E inoltre si osserva c'è la possibilità che la legge relativa a salvataggio venga impugnato dal governo perché lesivo delle norme europee sulla concorrenza. Spero che il governo non impugni. Abbiamo consigliato di scrivere meglio il piano industriale. Impugnativa da cosa potrebbe derivare? Dalla non indispensabilità che non giustifica la società in house e dalla non indispensabilità che non giustifica il non ricorrere al mercato violando la direttiva sulla libera concorrenza. Voglio aggiungere che una conquista che ha permesso di avere un atteggiamento asettico nei confronti di Abruzzo Engineering è che di Abruzzo Engineering in Abruzzo, benché non localizzate all'Aquila, ne abbiamo diverse. Allora, noi non siamo sicuri che questa operazione comporti la creazione in una società in house capace di sostenersi con le sue gambe. Di conseguenza che cosa succederà? Che la società la dovremo sostenere noi mettendo una nuova tassa sopra i cittadini abruzzesi.